Buongiorno, un saluto. Un saluto a nostri amici telespettatori. Eccoci a consueto appuntamento del martedì della rubrica Family dedicata alla medicina. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti. Con noi oggi in studio Tarcisio Notte che è professore all'Università di Trieste che è direttore di immunopatologia al Burlo sempre di Trieste ed è pediatra. Buongiorno, grazie per essere qui. E poi abbiamo anche un'altra pediatra che è Chiara Zanchi e che lavora sempre al Burlo di Trieste. Anche a lei grazie per essere qui. Bene, tema centrale della trasmissione di oggi è la celiachia perché prendiamo spunto da un incontro che si è tenuto recentemente a Trieste nell'ambito della città della conoscenza. Un incontro con la popolazione alla stazione appunto dei treni organizzato dalla Sissa e si è parlato proprio di celiachia. Esatto, è stata una bella discussione. Abbiamo parlato un'oretta, abbiamo affrontato diverse tematiche. Che cos'è la celiachia? Perché è importante la dieta senza glutine? E erano presenti una cinquantina di persone, hanno fatto anche diverse domande alla fine e sono stati molto interessati. Ecco, noi abbiamo preso spunto proprio da questo incontro, abbiamo detto, per parlare di celiachia. Però prima di scendere nei particolari, prima di sentire appunto che cosa si può dire della celiachia, dell'approccio anche con i bambini, conosciamo la struttura, la struttura del Burlo, come è organizzata, tanto più che è una struttura all'avanguardia proprio per quanto riguarda la celiachia. Questa della celiachia è un po' una tradizione della clinica pediatrica, anche del Burlo, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Devo dire che un aspetto importante, che molte volte lo teniamo nascosto un po' per falsa modestia, è che abbiamo promosso il primo screening nazionale negli Stati Uniti d'America nel 1994, per cui una serie di specializzanti si sono trasferiti a Baltimora e abbiamo coordinato il primo screening nazionale, Mattia Celia, che anche in quel paese veniva considerata rarissima, praticamente assente. E questo c'è dato lo spunto poi di fare diversi studi a livello anche europeo, vincendo peraltro con altre unità cliniche dell'area centro-europea, diversi progetti europei finanziati, come l'ultimo che vedete. Ecco, infatti, volevo proprio arrivare a quello, perché oggi è inusuale vedere nella trasmissione un pannello che ci parli di qualcosa, ma è un pannello molto, molto importante, perché mi ha consentito anche di ottenere un premio, un riconoscimento, quanto? Due milioni di euro. Questo è un progetto competitivo nell'area centro-europea con dieci unità cliniche di Monaco, Monaco, Budapena, eccetera, dove è stato finanziato con due milioni di euro. E questo ci permette di poter vivere con una ricerca e anche con un miglioramento della diagnosi di questa condizione, che è la malattia celiaca. Io mi permetto di usare il termine condizione, nel senso che questa condizione è genetica, è la malattia genetica più frequente nell'uomo, l'1% della popolazione generale ne è affetta. Quindi, tanto per fare una stima, in Italia siamo 60 milioni, ci devono essere 600 mila celiaci. E quindi, un numero considerato. Nella nostra regione ci dovrebbero essere 12 mila celiaci a fronte di una popolazione di 1 milione e 200 mila. Quindi è un'alta incidenza, no? Mi diceva che anche in America dicevano fosse una malattia rara. Esattamente. Però con questa incidenza qui non si può più parlare di malattia rara. È una malattia cronica ed è, come ho detto all'inizio, è la più frequente malattia genetica nel genere umano. Senta, prima di parlare appunto della celiachia, vorrei soffermarmi ancora un attimo su questo concorso, perché è troppo importante, no? Ne abbiamo parlato, abbiamo detto che cos'è, tanto più che serve anche per formare, formare nuovi professionisti. Certo. Quindi sapere quale deve essere l'approccio con la malattia. Ci spieghi un attimo, perché vediamo questo manifesto che è caratterizzato da delle immagini. Ci spieghi bene tutto. L'immagine riassuna un po' qual è il senso di questo progetto che si chiama Focus in Celiac Disease. Sì, dispiace liquidarlo così, no? Parlare in un minuto, due minuti. È bello. Raccoglio un po' quali sono le indicazioni che poi affronteremo anche in questo nostro intervento, che va dalla ricerca il microscopio, che va dalla formazione del personale medico e anche di assistenza generale, dallo psicologo al nutrizionista per questa malattia, va dalla collaborazione e alla diffusione di questa ricerca che viene fatta e all'interno di questo progetto e all'interno di tutta l'area, diciamo così, di collaborazione generale in Europa, e va anche alla diffusione, un'altra parte, il quadratino con le idee, di tutte queste conoscenze che non devono essere patrimonio di singole unità di ricerca, ma devono essere condivise all'interno della comunità scientifica e un obiettivo di questo progetto è proprio diffondere tutto quello che si conosce. Non è patrimonio di un nucleo ristretto, magari che si autocelebra, ma deve essere condiviso e anche sottoposto a critica. Questo è l'obiettivo di questo progetto e il burlo gestisce la parte proprio della ricerca, il microscopio che si vede nel progettino, proprio portando delle innovazioni per la diagnosi e anche capire perché questa condizione si sviluppa e si sviluppa in ogni età, pediatrica e dell'adulto. Quanti progetti avevano partecipato? Perché anche questo va detto. Questo è il secondo progetto europeo che vinciamo, sono progetti competitivi. Ma in questa occasione quanti ne avevano? In questo progetto centro-europeo erano 900 i progetti in diversi ambiti, dell'ingegneria, della botanica e della medicina. Sono stati selezionati 30 e questi 30, diciamo così, hanno avuto un finanziamento che ci permetterà di vivere i prossimi due anni in ricerca e anche diffusione, come facciamo in questo momento, di questa condizione. Beh, complimenti, complimenti. Complimenti a tutto lo staff, a tutto il gruppo. Quante persone sono coinvolte in questo progetto? Questo progetto, sia da parte del Burlo che in generale, sono 10 centri clinici, sono coinvolti circa 150 persone che, tra ricercatori in senso stretto, in senso tradizionale, che lavorano in laboratorio, poi medici che fanno attività clinica quotidiana e poi tutta una serie di altre persone che diffondono queste conoscenze, compreso anche le società laiche della celiachia. In Italia c'è l'associazione italiana celiachia, che è anche presente nella nostra regione, che danno un contributo notevole a diffusione anche a quelle che sono le necessità dei, diciamo così, dei soggetti che hanno questa, chiamiamo la malattia, eccoci, e le loro famiglie. Una malattia che abbiamo detto che non guarisce, praticamente, sì, non è come un'allergia che si può curare. No, non si guarisce perché è come un timbro, si nasce e diciamo si muore con questa predisposizione. È una predisposizione, ci si ammala solo mangiando il glutine, cioè è una proteinaccia di nessun significato nutritivo, che però è contenuta nel frumento, nella segala e nell'orzo, in parte anche nell'avena. Se uno è celiaco e mangia queste, le farine di questi sementi, si ammala. Si ammala in maniera molto variabile. Ecco, come si presenta? Infatti volevo capire, anche nei bambini. La dottoressa Zanich è molto esperta perché segue tutti questi bambini, queste creature che si amano, si prendono loro, ma anche di giovani adolescenti che scoprono appunto. Che scoprono questa condizione. Allora, diciamo appunto che la celiachia può in realtà esordire a qualsiasi età, no? Quindi nel bambino piccolo, di solito la sintomatologia prevalente nel bambino piccolo, quindi nel bambino che esordisce nei primi due anni di vita, è l'arresto della crescita, preceduto dalla diarrea, proprio perché è una malattia che inizialmente colpisce l'intestino e quindi dà un malassorbimento, quindi un cattivo assorbimento, e poi però può interessare anche diversi organi. Quindi diciamo la sintomatologia tipica è quella del cattivo assorbimento, quindi con la diarrea, il meteorismo, l'addome quindi globoso, e poi l'arresto di crescita, ma poi diciamo soprattutto nelle età successive può manifestarsi in modi molto diversi. Quindi anche in età molto, cioè anche in età adulta, anche nei novantenni in sostanza. Anche nei novantenni. Diciamo che in età adulta o negli adolescenti o comunque più in là, diciamo negli anni, spesso esordisce con sintomi diversi da questi che abbiamo detto, no? Può esordire con un'altra malattia autoimmune, ad esempio le più frequenti sono le tirodite autoimmune oppure anche il diabete di tipo primo, e infatti quando ci troviamo di fronte a un paziente con una malattia autoimmune dobbiamo pensare alla celiachia e va fatto lo screening delle celiachie. In tutti i nostri piccoli diabetici che diagnostichiamo facciamo lo screening per la celiachia come anche nelle diagnosi di tirodite autoimmune. Oppure può manifestarsi ad esempio sempre nei bambini con delle alterazioni dello smalto dentario o nelle donne che cercano di avere dei figli, la poliabortività sotto ci può essere come causa appunto la celiachia, dobbiamo pensarci. Fino a pochi anni fa uno non immaginava neanche, no? Ci potesse essere una patologia di questo tipo. Diciamo che la celiachia è una malattia, cioè come effettivamente è emersa? Beh, è emersa nel terzo secolo. Perché è curioso, no? Nel terzo secolo a.C. con un medico, un medico, ricordami il nome che adesso mi sfugge, di Cappadocia, in Cappadocia, il quale descrisse perfettamente che cosa succedeva a queste persone. Non sapeva qual era la causa, però li chiamò malati d'intestino, celiachos, è da lì che nasce la parola. Le conoscenze più precise sono del medico inglese Van Dyck che l'ha descritta in maniera molto precisa, l'ha descritta proprio in un periodo storico della Seconda Guerra Mondiale. Lui conosceva questi bambini prima della Seconda Guerra Mondiale che mangiavano tutto e mangiavano perché ne avevano la disponibilità il pane e si ammalavano. Diarrea, stentata crescita, pallidi, brutti da vedere. Venne la guerra, non c'era la disponibilità di questi cibi importanti, c'era anche un po' di carestia, ma quel poco bastava per poter vivere e questi bambini improvvisamente sono migliorati. Allora lui ha detto c'è qualcosa che non va e ha identificato nel glutine e nelle farine con cui veniva confezionato il pane soprattutto la gente scatenante. Sì, quindi quasi per caso, cioè osservato... Osservando, come sempre succede in medicina, osservando attentamente e con intelligenza e non dando per scontato nulla. E così lui ha definito il quadro diagnostico che bisognava, diciamo così, seguire per fare una corretta diagnosi, che era la biopsia intestinale con tutta una serie di... Poi ne parliamo appunto, che cosa si deve fare per diagnosticarla. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Stavamo parlando di diagnosi per quanto riguarda la celiachia. Come viene diagnosticata, che strumenti ci sono, che cosa si fa, quale litter che va seguito in sostanza. Certo. Naturalmente il primo sospetto è quello clinico, ma come abbiamo accennato prima, la celiachia si presenta in vari mori. È un camaleonte. E bisogna saperlo interpretare molto rapidamente. Gli strumenti sono eccezionali. Penso che sia una delle condizioni in cui lo strumento di laboratorio è decisivo e risolutivo. Il dosaggio nel sangue di anticorpi specifici che solo il celiaco ha sono disponibili. Questi anticorpi si chiamano anticorpi antitransglutaminasi. Basterebbe un semplice prelievo di sangue per capire. Esattamente. Esattamente. Il 90% delle diagnosi, delle diagnosi, dell'identificazione di un soggetto potenzialmente celiaco, viene fatto con questo test. di altissima specificità, cioè non intercetta altre malattie, e di estrema sensibilità. Cioè prende il 95% di un vero celiaco. Quindi basta questo. La conferma diagnostica è la biopsia intestinale, che deve mostrare una mucosa intestinale alterata, alterata così come si vede nell'immagine dove è scritto Damagen, rispetto al normale. Vedete i villi intestinali che sono il cuore dell'assorbimento di tutto quello che noi mangiamo, sono alterati nella fase critica di malattia, cioè quando il celiaco mangia il glutine, che ripeto si trova nel frumento, nella segra e nella vena e nell'orzo. Il celiaco che fa la dieta correttamente senza queste farine ritorna ad avere un intestino perfettamente normale che è in grado di assorbire tutti i nutrienti che vengono assunti con la dieta. Quindi si ripristina. È sufficiente non ingerire, non assumere. Più glutine. E la dieta senza glutine è la terapia. Basta. Finito lì. Non bisogna fare in un lato, se non in alcuni casi specifici, eccetera. La novità nella diagnosi di questi ultimi tempi è che solo in pediatria e in ben precisi quadri clinici si può omettere la biopsia intestinale, che non è un dramma. Al bullo se ne fanno circa otto alla settimana, vengono fatte in sedazione profonda. Ecco, volevo capire. Il bambino non si accorge di cosa succede, c'è un'assistenza di altissimo livello con infermiere motivate che accompagnano questo bambino, i genitori sono sempre in sala, in sala endoscopica. Il tutto si risolve in 15 minuti con un'assenza di ricordo di quello che è accaduto per il bambino. Ma voglio dire, siccome tutti leggono internet, siccome tutti anche nella comunità scientifica ne parlano, solo per la pediatria è possibile fare la diagnosi in determinate condizioni e caratteristiche cliniche, si può fare la diagnosi senza la biopsia intestinale. E solo basandoci su quel test di cui abbiamo parlato prima, degli anticorpi antitrasglutaminasi è anche un controllo, di cui ci parlerà Chiara Zanchi, dopo la diagnosi. Quindi, diciamo, fondamentale è fare la diagnosi e poi fondamentale è fare... E avere un approccio anche con i bambini che deve essere, no? Adeguato appunto, come diceva il professor Notte, i bambini poi non si ricordano di nulla, ma anche lì... E' importante questo, perché poi il ricordo incide tanto anche in tutte le future esperienze poi di dolore, no? Se uno appunto ha un brutto ricordo di un'esperienza, poi sarà poi più difficile anche approcciarsi poi le volte successive. Dicevamo che è fondamentale fare la diagnosi in modo precoce, perché la diagnosi fatta presto protegge poi, non solo fa guarire l'intestino, ma protegge poi anche del rischio di altre malattie autoimmuni, perché la celiachia non è solo una malattia dell'intestino, abbiamo visto prima che può dare anche sintomi a carico di altri organi e quindi la terapia, abbiamo visto che è la dieta senza glutine e la dieta senza glutine permette anche, appunto, non solo di far guarire l'intestino, ma anche di prevenire altre malattie autoimmuni che potrebbero innescarsi non facendo bene la dieta. Le visite a ogni quanto devono essere fatte dopo la diagnosi? Diciamo che la prima visita dopo la diagnosi viene fatta dopo sei mesi, ma questo per capire che la famiglia abbia capito l'importanza della dieta senza glutine e abbia capito come fare la dieta senza glutine. Guarda che bene, guarda che belle cose ci propone Tiziano Campigotto. Gli organi effettivamente, per dire che la celiachia è una malattia sistemica, quindi non è una malattia solo dell'intestino, ma una malattia che può colpire in misura diversa qualsiasi organo. Esiste ad esempio la celiachia della pelle, vedete cute, c'è scritto dermatite, è una dermatite particolare, molto pruriginosa, si manifesta soprattutto nella parte dei sensori degli arti e può essere il dermatologo a fare la diagnosi, a pensarci e quindi a richiedere poi gli anticorpi specifici per la celiachia. La terapia anche della dermatite erpetiforme è la stessa, è la dieta senza glutine. Sì, sì, quindi sempre senza glutine. Possiamo aggiungere una cosa chiara? Magari tu ci dici qualcosa dell'adolescente, perché l'adolescente è il problema chiave nella gestione del senza glutine. Questa diapositiva ci dice che questa condizione, la celiachia, è patrimonio di tutti i medici, non solo del gastroenterologo, ma del cardiologo, del dentista con le lesioni dello smalto dentale, del dermatologo per la cute, del neurologo per la causa di cadute del tono muscolare. Anche del dentista qua, anche dell'odontoiatra. Per lesioni dello smalto dentale. E poi può accorgersi anche lo stesso odontoiatra, no? Che c'è qualche cosa che non va. Giustamente, giustamente. Guardando, basta una banale visita di controllo e uno si rende conto di una possibile patologia. Sì, noi diciamo è facile. Come nel diabete anche, no? Ci sono tante patologie riscontrabili attraverso i denti. Sì, no, mi ricollegavo prima a quello che diceva il professor Notto, diciamo è facile, basta la dieta senza glutine. In realtà non è facile. È vero, è l'unica malattia autoimmune di cui noi sappiamo la gente è scatenante, togliamo il glutine, la malattia è in remissione. Però fare la dieta senza glutine non è facile, no? Non è facile soprattutto per gli adolescenti, non è facile a scuola per i bambini che devono rinunciare, no? Devono fare delle rinunce. È vero che esistono i prodotti senza glutine, ma è vero che quando l'adolescente va fuori a mangiarsi la pizza, non sempre ha la pizza senza glutine. Ed è una malattia che ti mette allo scoperto. Spesso i nostri adolescenti si vergognano, lo nascondono, lo dicono al migliore amico, no? E questo fa vivere questa malattia in modo negativo. A volte succede... Ma si possono fare strappi alla regola? No, la dieta senza glutine va fatta in maniera rigorosa. Sistematica? Sistematica, sì. Quello verso cui si può star tranquilli è verso quelle che vengono chiamate le contaminazioni di cui spesso si parla, perché c'è chi magari non fa la dieta e noi lo sappiamo, perché gli studi dimostrano che dal 30 al 60% degli adolescenti non segue la dieta senza glutine e chi invece poi magari è talmente puntiglioso che sta attento anche alle piccole cose. Io dico sempre che la dieta senza glutine va fatta bene, va fatta in modo rigoroso per tutta la vita, però che è importante anche preservare una qualità di vita buona. Quindi vuol dire non evitare di uscire, deve essere importante la socializzazione, si mangia a tavola con tutti gli altri. I bambini con la celiachia, all'asilo, a scuola, devono mangiare vicino agli altri bambini. Le bricioline di pane che sono vicino non sono un problema e non lo saranno mai. Ecco, questa è la cosa più importante, che alla diagnosi va fatta una terapia adeguata senza paranoie. Si può uscire e si può vivere una vita sociale. E poi la dieta senza glutine la si fa al supermercato. Volevo arrivare lì. Adesso c'è questo incremento di prodotti senza glutine e tra l'altro dicono che ci sia anche un incremento di vendita, altrimenti non ci sarebbe tutta questa esposizione. Ma effettivamente, ha senso o non ha senso prendere prodotti privi di glutine se uno non sa di avere o meno la celiachia? Allora, se uno è celiaco deve fare... E lì, per forza di cose, si è detto che... Quando l'hai intervenuta, volevo fare un altro piccolo... Che i prodotti senza glutine esistono naturalmente. La carne, la frutta, la verdura, il pesce... Tutto quello che volete senza glutine. Per noi del sud Europa, forse è un po' più un problema. Perché abbiamo la pasta, la pizza... Chi di noi, almeno una volta al giorno o tre volte alla settimana non mangia una pasta? Per tradizione e per cultura. Al nord Europa... E anche perché è buona. E' così. Ebbè, benissimo. Tradizione e cultura è perché è buona. E lì bisogna seguire quello che ha detto la dottoressa Zanchi. Bisogna fare uno sforzo. Senza però togliere la socializzazione che è importante. Certo. Quello che dice lei, questa esposizione del senza glutine, beh, noi adesso viviamo una moda del senza glutine. Ma ha senso o non ha senso? Non ha nessun senso. Non ha nessun senso, non c'è nessuna base scientifica, non c'è nessuna base reale del numero di queste persone che senza celiachia si mettono in dita senza glutine. Possiamo dire una cosa normale. Se stanno bene senza glutine, beh, che facciano il senza glutine. Ma che non si nasconda, questo è il pericolo, una celiachia non diagnosticata. Perché il pericolo è questo. Fa autoprescriversi una dieta non sapendo se sotto c'è una reale base di patologia. Perché potrebbe essere un'autodiagnosi o nascondere una celiachia che viene, per forza di cose, guarita con la dieta senza glutine. Cioè, è bene che una persona, se vede che mangiando glutine sta molto male, vada dal medico e dica cosa ne pensi? Perché è importante scovare la celiachia. Poi, per il senza glutine, in quella che viene chiamata sensibilità al glutine, non celiaco, questo è un altro discorso. È un campo minato, molto pericoloso. E non si esprime di più? Non posso, perché non ho nessuna base scientifica. Potrei parlare di tante cose. Potrei parlare... Quindi, non ci sono basi scientifici. È importante che se uno ha il sospetto di essere celiaco, faccia gli esami. La celiachia, abbiamo visto, può dare tantissimi sintomi, può dare anche niente. Cioè, può essere asintomatica. In chi ha un parente di primo grado con celiachia, la ricerca degli anticorpi antitrasotaminasi va fatta, proprio perché dal 10 al 15% dei familiari di primo grado possono avere una celiachia asintomatica. Per cui l'importante è prima cercare la celiachia. Poi la dieta si può fare. Non è che faccia bene se uno non è celiaco, ma non fa neanche male. L'importante è non nascondere una celiachia. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Questo è, diciamo così, una delle nostre attività date anche da questo progetto europeo di informare tutti quanti senza la raccogliere informazioni in giro, un po' di qua, un po' di là che molte volte fanno confusione e molte volte nascondono il problema reale che è la celiachia non diagnosticata. Grazie a Tercisio Notte, grazie a Chiara Zanchi e grazie a voi per averci seguito e noi con la rubrica Family dedicata alla medicina. Ci vediamo a martedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.